Avete visto? Adesso continueremo, tra i due, ma il canale ci mi sembra, il mio Dumbo a seguire, il mio Rapunzel, l'intensore della torre, dell'anno 2010, questo è dell'anno 10, ok, finalmente, finalmente finisce, è vero, è talmente eroe, anche è buone feste di questo dicembre, sta avverando, sta avverando tutto, avete visto? È una meraviglia, è una meraviglia anche per questo film, anche, questo ce l'ho fatta, benissimo, questo, sotto gli ultimi pezzi, che bella cosa, che ho fatto, il re e la regina, sono già qui, e dovete guardare, solo, solo, è vero? Ehm, per questo? Sì. Ehm, ragazzi, ha la mano del principale. Sto lascando tempo, che detto? Ehm, io mi ero appunto in tempo della torre, ma, in serio, c'è strano? Ehm, io mi ero appunto in tempo della torre, ma, io mi ero appunto in tempo della torre, Sì, sì. Sto facendo? Sto facendo? Sto facendo con Best Buy, su una PC Snap, HV. Ma che cosa, che hai detto prima? Che bello, che hai detto? Sì, questo è prima del 2010, questo è prima del 2010, continui a registrarmi? Sì, se non c'è, non è. Ma, lo so, che senti sempre di genere? Come quasi tutte le mele. Intelligente. Anche se non abbastanza... Tu cosa sei? Cosa sei? Intelligente. Dai? Eh. Tu cosa sei tu? Finalmente, Rapunzel era a casa, e aveva una vera famiglia. Chiudi? Sì. La principessa, le vado le attese. Vedi? Vedi? Le vado la grazia e la saggezza che i suoi genitori per primaveri. Sì, è tutto vero. Si sta realizzando. Sì, sì. Daniele Vole su YouTube. Continueremo qua. Continueremo durante questo dicembre. Vedete il settimo pezzo. Io ho chiesto le leggi. Avete visto? Sì, sì. È vero? Eh? Questo è un Disney and the Legend Studios. Grazie. Grazie.